Sul futuro del Maxi L'Aquila, nella sede dello splendido Palazzo Ardinghelli, restaurato grazie a un sostanzioso sostegno finanziario del governo russo, si addensano sempre più nubi. L'apertura di una sede del prestigioso Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma sembra sempre più lontana. Al centro la carenza di fondi, mancano l'appello un milione di euro l'anno per la sua gestione. Sulla vicenda ha intervenuto, con una lettera inviata al quotidiano il centro, il segretario generale della fondazione Maxi Pietro Barrera. Oltre un anno fa, in occasione della rassegna internazionale dedicata alla ricostruzione officina L'Aquila, Barrera aveva garantito l'apertura del museo in tempo per il decennale del sisma nell'aprile di quest'anno. Ma ormai siamo fuori tempo massimo. Nella sua lettera, il segretario generale del Maxi di Roma ricorda che nel 2015 fu il ministro dei beni culturali Franceschini a lanciare l'idea di farne un centro di arte e creatività contemporanea, sollecitato, aggiungiamo noi, dall'ex sindaco Massimo Cialente che ebbe l'intuizione. Il ministro, prosegue Barrera nella lettera, chiese al Maxi di farsene carico e accogliemmo la sfida. L'anno scorso il ministero ha impegnato per il Maxi un contributo di 2 milioni di euro l'anno fino al 2024. Per far decollare il Maxi L'Aquila è ora indispensabile che il MIBAC confermi questo impegno, insiste Barrera. Non sarà comunque sufficiente, considerando che nei primi tempi l'offerta culturale dovrà essere prevalentemente gratuita e qui entrerà in gioco la responsabilità della fondazione. Con l'impegno per raccogliere tutte le energie disponibili, l'appello agli sponsor, il fundraising ha già avviato con il Gala Dinner 2018. Ma senza un contributo statale certo e adeguato, è irrealistico aprire un nuovo museo, dice Barrera. Tutti i dubbi su cui adesso dovrà espriversi il governo, ma il rimpallo degli impegni sembra essere il principale pericolo per la realizzazione del museo. Da un lato il sindaco Luigi Biondi che chiede al governo di mantenere l'apertura, dall'altro il sottosegretario alla cultura Gianluca Vacca che chiede la massima collaborazione da parte degli enti locali. Due giorni fa il sottosegretario ha convocato un vertice al Ministero per i beni e le attività culturali a Roma. Attorno al tavolo anche il sindaco Biondi, il presidente della regione Marco Marsilio e la presidente della fondazione Maxi Giovanna Melandri. La fondazione Maxi ritiene necessario un altro milione all'anno per far partire e sostenere il progetto. Come Mibac, dice Vacca, abbiamo ribadito la volontà di andare avanti ritenendo però allo stesso tempo auspicabile l'intervento anche di comune e regione. Ma sia sindaco sia governatore hanno confermato durante l'incontro l'indisponibilità di risorse proprie.